Ciò che amava nei cavalli era la stessa cosa che amava negli uomini, il sangue e il calore del sangue che li animava. Tutta la sua stima, la sua simpatia, le sue prepensioni andavano ai cuori ardenti, così era e sempre sarebbe stato. Ai cuori ardenti, Ardent Hearted, questo è il titolo della mostra che sarà presentata al Meeting 2024, Meeting che prende il tema proprio da una frase del grande scrittore americano scomparso nel 2023. La mostra non vuole essere un percorso didattico tra le opere e la vita di questo scrittore, ma l'invito al visitatore ad imbattersi in un cammino esperienziale alla ricerca del fuoco come il cacciatore dei suoi libri.